vivremo in futuro in un mondo dominato dalle macchine oppure l'essere umano sarà ancora al centro dell'attenzione l'intelligenza artificiale è un'opportunità o un pericolo oppure tutte e due le cose insieme e come si trasformerà il mondo del lavoro con l'intelligenza artificiale quale formazione sarà necessaria per lavorare l'intelligenza artificiale è un pericolo per le nostre democrazie e che ne sarà delle relazioni umane sono solo alcuni dei quesiti che un po in tutto il mondo ci stiamo ponendo di fronte all'avanzare dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni persino Elon Musk e il capo di Tesla e di Twitter e altri imprenditori chiedono ora un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale la questione che si impone è quella di dare delle regole certe e condivise a delle tecnologie che senza freni potrebbero provocare danni enormi a livello economico sociale e democratico ne parleremo nella 61esima assemblea generale di Ainti il prossimo 4 maggio alle 17 al cinema teatro di chiasso ospiteremo in quell'occasione padre Paolo Benanti teologo frate francescano professore all'università gregoriana del Vaticano e ricercatore è uno dei massimi esperti a livello internazionale di etica delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale un tema importante e di attualità che ne siamo certi interesserà il pubblico presente vi aspettiamo